La distanza su gomma tra la stazione ferroviaria dell'ospedale Perrino e l'aeroporto di Brindisi è di poco più di 8 chilometri e può essere percorsa in circa 11 minuti. Il piccolo scalo creato nei pressi dell'ospedale viene individuato come centro di smistamento per i viaggiatori che da Taranto e Lecce devono recarsi in aeroporto, quindi parcheggiando qui l'auto e utilizzando una eventuale navetta che sfrutti la rete stradale già esistente si arriva comunque in pochi minuti. Eppure sono in cantiere due progetti già approvati e completamente separati l'uno dall'altro finalizzati a portare i passeggeri da questa zona in aeroporto con investimenti rilevanti. Il più datato del costo complessivo di 30 milioni di euro e il cui cantiere è stato già avviato a Rione Paradiso prevede un collegamento su una navetta a metano che parte dalla stazione ferroviaria del Perrino dove dovrebbe essere realizzato un grande parcheggio e conduce sino all'aeroporto passando da Cillarese attraversando Parco Bove, il Rione Paradiso e da qui arrivando in aeroporto con una nuova strada che dovrebbe essere realizzata da via della Torretta passando alle spalle di via Brandi e mettendosi quindi in via De Simone. Il secondo molto più ambizioso e quattro volte più costoso 120 milioni di euro è stato presentato da rete ferroviarie italiane e ha già ottenuto il via libera definitivo da parte del Ministero della Transizione Ecologica e prevede la realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e una nuova stazione da realizzare all'interno dell'aeroporto con la creazione di un sottovia veicolare, due cavalcaferrovie e due viadotti viari. Ma le polemiche non mancano intanto per l'esistenza di due progetti paralleli che insieme sembrano sovradimensionati rispetto al numero di viaggiatori che potrebbero di fatto suffruirne e poi perché il progetto ferroviario prevede l'interruzione dell'antico tracciato della via Appia e l'esproprio di alcuni terreni utilizzati per la coltivazione dell'uva.